Seconda edizione di Drag Race Italia, dal 20 ottobre in esclusiva per l'Italia su Discovery Plus e successivamente in chiaro su Real Time. A giudicare le pretendenti del titolo Italia's Next Drag Superstar sono ancora una volta Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Ma chi sono le concorrenti di questa edizione? Scopriamole insieme. Chi sono le protagoniste di Drag Race Italia 2 Aura Eternal, 24 anni, Palermo, ironica e imprevedibile, ha come modelle le grandi dive del passato e non può fare a meno delle sue passioni, la musica e il make-up. La Diamond, 34 anni, Riesi Caltanissetta, vuole affrontare la gara con l'ironia che la contraddistingue e con look coloratissimi. Gioffre, 25 anni, New York, ma ha origini calabresi, nel proporsi palesa un look glamour e horror, senza però mai dimenticare il versante ironico. Narciso, 29 anni, frosinone, raffinata e tenace, riflessiva ed egocentrica, si presenta al pubblico come la quota singer e androgina dello show. Nell'Enea, 31 anni, Roma, la sua romanità risalta fin dall'inizio. Il suo è un approccio allo show schietto e divertito. Obama, Roma, ma senegalese di origine, la sua impulsività non ha peli sulla lingua, ma è sincera e ironica. In definitiva, destinata a dividere, Pantera Virus, 29 anni, frosinone, ma fiorentina per scelta. Figlia d'arte di Ava Angar vista nella prima edizione si definisce una drag queen dark fetish nello stile ma pop nell'anima. La Petite Noir, 32 anni, Palermo, si presenta al barco come una delle più temute del gruppo, in quanto vincitrice di diversi concorsi. Si definisce una dancing beauty queen, Scandalov, 33 anni, corato, vari, torna dopo un periodo di inattività dal mondo drag. Istrionica e ironica, si dice pronta a dare scanalo. Tanissa Yonse, 28 anni, Catania, eclettica, solare e coloratissima, confeziona abiti di qualità. Sempre nel segno della sua sicilianità. Dove vederlo in tv e in streaming, dal 20 ottobre. Le nuove puntate di Drag Race Italia vanno in onda in prima tv sulla piattaforma Discovery più il giovedì, a partire dal 20 ottobre. Gli episodi vanno in onda in chiaro su Real Time al termine della messa in onda dell'edizione, molto probabilmente ad inizio 2023.